un po di tempo ho preso uno spartito scusate sono zoppa perché sono andata a sbattere addosso anzi sono caduta sono caduta dalle scale e quindi mi sono fatta un po male e mi sono rimessa a suonare perché devo avere un motivo tragico mi annoio sempre ferma poi mi vedo sempre troppo brava troppo non troppo brava sempre ascolto i miei autori preferiti e poi mi metto a suonare io mi faccio schifo invece adesso che c'ho la gamba così magari inizio un po allora io ho uno spartito che è uno spartito di si chiama jukellington trascrizione di jason view ed è veramente per me per il mio livello è abbastanza io sono non vado a fare le cose per passi passo dopo passo si faccio passo dopo passo ma prendo pezzi che durano che sono sette otto pagine e vabbè non prendo il colibri seviglia quelli non li prendo o granada che ho studiato per un po e poi ci ho rinunciato ma questo è nel sentimento al mondo di jukellington è bellissimo ma bisogna avere una cosa ecco io una serie di domande da fare e non so se queste domande le posso fare insomma è un pezzo che vedete sembra facile pezzi così con le note tutte separate non sono tutti neri gli spartiti quando le vedete tutti neri oddio difficile non è detto questo non è tutto nero non è tutto nero finalmente dopo anni e anni che gliel'hanno chiesto tutti questo spartito questo compositore americano che che io pensavo fosse canadese invece è americano e finalmente ci ha rilasciato questa questa coppia che noi noi che non siamo bravi se non sappiamo dobbiamo starci degli dei mesi a rifare sempre i stessi passaggi ma la parte più difficile è un punto dove bisogna andare un po in là sulla tastiera e lì i tasti si perde il ritmo perché lui cambia il ritmo tre o quattro volte fa tanta 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 cambia il ritmo tre quattro volte in questo pezzo e non segue la linea precisa di dio kellington in sentiment al mood nel senso che è proprio questo il bello cosa volevo dire con questo video volevo dire che intanto sono caduta delle scale mi sono fatta male un piede e quindi sono zoppa e chi va con lo zoppo imparato piccare io invece vado con quelli che sono più bravi di me e di solito miglioro a parte il mio passaggio in tango in sky che quello ci ho messo circa un anno e mezzo per farlo poi improvvisamente venuto da solo e ancora sporco però è pulito cioè sporco nel senso che le notte passaggione non è pulito come dove deve essere perché il suono deve essere anche se veloce deve essere pulito pulito altrimenti va rallentato se una notte si confonde con l'altro si perdono però almeno riesco a farlo nel senso che riesco a finire la sequenza tutto 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 e quindi quello è è già qualcosa che per me è stato un traguardo perché noi piccoli insomma è il problema sai cos'è se voi guardate le 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 unghie non solo di questo compositore che il mio preferito al momento e che ha composto un sacco di roba e poi ha tolto le licenze la apple quindi mi sono trovato un sacco di di musica che avevo comprato che non la potevo più sentire quindi l'ho fatto la subscription all'apple per poterla ascoltare di nuovo la prima composizione che lui ha fatto dice io ho ascoltato un suo video dove raccontava che l'aveva composto da giovane una cosa pazzesca di una bellezza inimmaginabile che image of matter devo guardarlo comunque è una delle prime composizioni dei primi pezzi dove lui c'è la faccia da giu proprio giovani giovani ed è bellissimo però da un giorno all'altro mi sono trovata senza musica io di non sono di quelle che vanno a scrivere le lettere gli avvocati voglio i miei soldi indietro non me ne frega niente se lui ha tolto le licenze la apple e non voleva che che venissero vendute insomma sapete la musica non è proprietà nostra anche quando la compriamo è sempre legata delle licenze quindi se l'autore non le dà più le licenze perché perché in teoria un autore classico non è come adesso non voglio fare nomi ma non è una pop star nel senso che per preparare un pezzettino con due canzoncine con due accordi ci vuole ci vuole tre settimane per preparare un pezzo di questi ci vogliono ci vuole una vita dedicata veramente veramente io sono trent'anni che sono che sono senza senza il problema è quando lavo i piatti capito quando quando lavo i piatti mi partono le unghie o quando taglio con la fettatrice è partito lunghi anche qua ed era il mignolino meno ma che mi ha lasciato me l'ha lasciato integra e quando siete quando non dovete lavare quando fate i chitarristi non è come il pianoforte non dovete lavare i piatti non dovete lavare i pavimenti non dovete fare niente perché le unghie si spaccano subito ho visto chitarristi quelli professionisti che hanno le unghie così l'ho sentito un pezzo di corso perché a questo signore qua fa i corsi a una scuola un'università di chitarra online e gli ho visto le unghie mi sono spaventata caro mio mi sono spaventata proprio aveva le unghie lunghe così e non penso che passi vabbè ti puoi mettere i guanti ma anche se ti metti i guanti te le rompi lo stesso le unghie se stai pulendo se stai facendo delle cose noi piccoli noi amatoriali noi amatori non c'è modo di non far di non lavare due bicchieri tre tazzine in casa tua no noi non abbiamo la servitù ce le dobbiamo fare noi le cose solo se vai a spalare e ti metti anche i guanti te le rompi le unghie me ne sono rotta due e io io suono lo stesso anche anche se senza se mi manca un'unghia però il suono nello stesso non è la corda la perdi devi avere sempre la stessa lunghezza o perlomeno e ci sono le unghie di metallo queste cose qui ma sono robe uno sono dei bradi più questi concertisti sono dei bradi un bradi sembrava un bradi poi ho visto l'unghia del pollice toccano mio lo credo che non lo perdi non lo perderai mai te il basso o non lo perderai mai te l'accompagnamento o non ne cani una perché lì è impossibile non arrivarci con un'unghia del genere e quindi niente quindi dovrò studiare di più allargarmi e niente i suoi passaggi sulle linee sentimental mood la parte la parte la cosa più difficile cambio di ritmo e io devo studiare cambio di ritmo perché quando fatto tutto 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 questo passaggio più bello però ci vuole una cadenza jazz e io quella cadenza jazz non ce l'ho tutta data da down 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 non come ve lo posso fare meglio down 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 e poi c'è un punto che fa ed è la parte più bella quella è bellissima e non ce l'ha rilasciato subito io non so quanto e che quanta gente da tutto il mondo gli chiedeva questo spartito lui rispondeva se siete bravi in composizione e avete la preparazione sufficiente sono accordi facili ce la fate anche da soli se non siete a quel livello è meglio che non lo fate però sai com'è noi invece lo volevamo fare lo stesso con i tuoi accordi e mi chiedo se riuscirò mai a suonarlo cioè io riesco a suonarlo assolutamente sì se lo possiamo registrare perché so che è questo signore molto geloso Jason geloso è molto geloso delle sue cose e giustamente perché è roba tua e oggi giorno tutto viene plagiato quindi è giusto io lo capisco assolutamente sono dalla parte soprattutto dei chitarristi classici che ci vuole veramente ci vuole una passione una precisione ci vuole non lo so non so come spiegarvelo io sono così appassionata che quando vedo della gente precisa che mi esegue che esegue tutti i pezzi così con la passione con le città lì ci vogliono anni ma anni ma ore giornate cioè tu sai quante rinunce devi fare quanti sacrifici devi fare per portarti a quel livello anni e anni proprio ci vuole conservatori tantissimi spartiti io invece studio solo quelli che mi piacciono e quindi questa è già una pecca quindi mi chiedevo se si può registrare se si può registrare se si può mandare in vio tube anche eseguito o non perfettamente perché e non lo so quindi dovrò mandare una mail o fare una richiesta per vedere se posso eseguirlo perché è una sua non è una sua composizione ma la trascrizione è sua e non è detto non so non è una trascrizione di Segovia che chiunque la può fare in Segovia non c'è più e quindi chiunque può prendere i propri pezzi di Segovia e farseli è una trascrizione dove lui è ancora insomma quindi magari non gli va che questo venga eseguito senza precisione senza la sua autorizzazione vorrei sapere ecco questa cosa qui e magari mi arriverà qualche informazione su questo io magari cercherò la mail o un contatto o mi mi pagherò un mese di lezioni in queste università che ha lui e gli chiederò personalmente se potrò eseguirlo una volta studiato e memorizzato questo era tutto per oggi mi sono fatta male sono caduta niente capita a volte sai col cane in mezzo che passa davanti a te caduta e mi sono slogata una caviglia speriamo di guarire in fretta ciao